Quarta parte della quinta lezione dell'insegnamento di metodi matematici per l'ingegneria. Continuiamo la nostra indagine sull'insieme degli zeri di una funzione olomorfa. Quindi sia F definita sempre da un dominio che chiamiamo A e scegliamo aperto e connesso. E sia Z di F l'insieme degli zeri della nostra funzione, cioè i punti del dominio in cui la funzione si annulla. Allora abbiamo la seguente proposizione. Si possono verificare i seguenti casi. Casi A Z potrebbe essere l'insieme vuoto Anche chiamiamolo I Z potrebbe essere tutto il dominio A Oppure se non è vuoto, se non è tutto Allora Z è un sotto insieme discreto Di A Sotto insieme discreto significa che ogni punto di Zf è un punto isolato Ed inoltre A non contiene Punti di accumulazione Dell'insieme Dell'insieme Zf Attenzione, questo non vuol dire che Zf non abbia punti di accumulazione Ma non li ha nell'insieme A Quindi Zf potrebbe avere punti di accumulazione Non in A ma nel bordo di A Nella frontiera di A Per capire che queste situazioni si possono effettivamente verificare Facciamo qualche esempio Se voi prendete la funzione f di Z Uguale E alla Z Il modulo di f di Z Che è il modulo di E alla Z Questo coincide con E elevato alla parte reale di Z E questo è un esponenziale esponente reale E sempre estremamente positivo Quindi f di Z è sempre diverso da 0 Cioè l'esponenziale non si annulla mai Quindi in questo caso l'insieme degli zeri Quindi è in vuoto Siamo nella situazione del primo punto Ovviamente se prendete f di Z La funzione è identicamente nulla Avete che Zf è tutto il piano complesso Quindi siamo nella seconda situazione Per verificare Se andiamo a prendere un'altra funzione Prendiamo f di Z uguale al seno di 1 su Z In questo caso il dominio 1 su Z è olomorfa su tutto il piano complesso meno l'origine Il seno è olomorfa dappertutto La composizione di funzioni olomorfe è ancora olomorfa Quindi in questo caso il dominio è tutto il piano complesso Tranne l'origine Quello che abbiamo chiamato C stella Se andiamo a vedere chi è l'insieme degli zeri di questa funzione Sono i punti Z appartenente a C stella Tali che il seno di 1 su Z fa 0 Andiamo a studiare questa equazione Quando è che il seno si annulla Quando il suo argomento è un multiplo intero di 2pi greco Quindi con K appartenente a Z L'insieme degli interi E quindi questo significa che Z è della forma 1 su 2pi greco K Quindi abbiamo una famiglia di zeri E quindi il nostro insieme Zf In questo caso è formato dei punti 1 su 2pi greco K Con K che varia sull'insieme dei numeri interi E come è fatto questo insieme Quindi avremo 1 su 2pi greco 1 su 4pi greco 1 su 6pi greco 1 su 8pi greco Sono punti che si accumulano Vedete verso l'origine L'origine è il punto di accumulazione ma non appartiene al dominio Abbiamo anche poi per K negativi Abbiamo anche la stessa cosa di qua Quindi abbiamo tutti i punti isolati Uno con l'altro Come facciamo a dimostrare questa proposizione? Bisogna far vedere che se Zf non è vuoto e non è tutto A Allora è un sotto insieme isolato Quindi vediamo la dimostrazione Sia Z0 appartenente a Zf Se Z0 è 1 0 di ordine infinito Per il teorema che abbiamo dimostrato nelle sezioni precedenti Teorema visto prima Allora F si annulla dappertutto Allora Zf è tutto il dominio Mentre invece l'alternativa è che Z0 sia 1 0 di ordine finito Se invece Z0 ha ordine finito Questo cosa significa? Significa che la derivata k'esima nel punto Z0 della F è uguale a 0 Se K è uguale a 0, 1, 2, fino a Supponiamo che M sia l'ordine dello 0 Fino a M-1 E la derivata M'esima nel punto Z0 è diversa da 0 Ma allora adesso andiamo a scrivere la serie di Taylor della funzione F nel punto Z0 Siccome F è olomorfa Ammette Se F è olomorfa abbiamo visto che ammette uno sviluppo In serie di Taylor E quindi la nostra F di Z Intorno a Z0 può essere scritta come sommatorie per K che va da 0 a infinito come serie di potenze centrate in Z0 I CK non sono altro che 1 su K fattoriale la derivata k'esima nel punto Z0 Ma l'ipotesi è che I CK sono tutti nulli fino a M-1 Quindi abbiamo che CK è uguale a 0 se K è minore o uguale di M-1 Quindi vuol dire che i primi termini sono tutti nulli e quindi la nostra funzione F di Z partirà da K uguale ad M Quindi il primo termine non nullo è quello con CM Quindi CK di Z meno Z0 alla K Se adesso facciamo una traslazione di indici Se K lo scriviamo M più J Quando J parte da 0 K parte da M Quindi questa diventa la sommatoria per J che va da 0 a infinito C di M più J Z meno Z0 alla M più J Dove questa volta J parte da 0 Possiamo raccogliere un Z meno Z0 alla M Che è comune a tutti questi fattori Z meno Z0 alla M lo raccogliamo E ci rimane una serie di potenze che parte da 0 Con coefficienti traslati CM più J Z meno Z0 alla J Questa serie di potenze ha lo stesso raggio di convergenza della serie precedente Chiamiamola G di Z Quindi abbiamo che F di Z è uguale a Z meno Z0 alla M per G di Z E osserviamo che G di Z0 Quando metto Z0 uguale a Z0 Tutte queste potenze si annullano Tranne quando J è 0 Quando J è 0 mi rimane CM Ma CM è diversa da 0 Perché la condizione è che la derivata emesima sia diversa da 0 E quindi CM è diversa da 0 E quindi cosa abbiamo? Abbiamo che se G è una serie di potenze Quindi è una funzione romorta, è continua G è continua in un intorno di Z0 E siccome non si annulla nel punto Z0 Ci sarà tutto un intorno in cui non si annulla E quindi per continuità G di Z è diversa da 0 In un intorno di Z0 Invece il fattore Z meno Z0 alla M È diverso da 0 Se Z è diverso da Z0 Quindi quando moltiplichiamo due quantità diverse da 0 Otteniamo qualcosa di diverso da 0 E quindi troviamo che F di Z è diverso da 0 Quando questo è diverso da 0 E quando i due fattori sono entrambi diversi da 0 Quindi in un intorno bucato di Z0 In un intorno bucato di Z0 Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i punti intorno a Z0 Non possono stare nell'insieme degli zeri Quindi vuol dire che ZF Questo intorno bucato Chiamiamolo la palla di centro 0 raggio R Meno l'insieme Z0 Quindi se io vado a fare l'intersezione Della palla di centro Z0 e raggio R In questo intorno E vado a vedere in quali punti la funzione si può annullare Questo contiene solo il punto Z0 Non ne può contenere altri Perché intorno a Z0 la funzione non si annulla E quindi Z0 è un punto isolato di ZF Quindi ZF e tutti i punti di ZF sono punti isolati Adesso supponiamo se fosse Z stella Un punto di accumulazione di ZF in A Quindi Z stella appartiene ad A Cosa avremmo? Se è un punto di accumulazione vuol dire che possiamo avvicinarci a Z stella Con punti di ZF Questo significa Quindi Significa che esiste una sequenza Una successione Zn di punti di ZF Che si avvicinano a Z stella Cioè tale che Zn converge a Z stella Quando n tende all'infinito Ma F di Zn è uguale a 0 Perché i punti sono I punti di 0 della F E per continuità F nel punto Z stella È uguale al limite per n che tende all'infinito Di F di Zn Perché Zn converge a Z stella E quindi i valori della funzione convergono a F di Z stella La funzione è continua nel punto Z stella Ma qui abbiamo una sequenza di zeri Quindi abbiamo tutti i zeri E quindi Z stella Dovrebbe appartenere a ZF Ma se è un punto di accumulazione Non può essere un punto isolato Ma Z stella Abbiamo visto deve Essere Isolato E non può essere Di accumulazione E quindi ecco si arriva a una contraddizione Fine della dimostrazione della proposizione Questa proprietà dell'insieme degli zeri Di una funzione allomorfa Ci permette di definire il cosiddetto principio Del prolungamento analitico Tale principio si basa sulla seguente osservazione Quindi lo scriviamo sotto forma di proposizione Sia F da A a C con A aperto e connesso di C Olomorfa Quindi abbiamo il nostro insieme A E sia gamma Da 0 a 1 in A Una curva Regolare Se volete anche a tratti possiamo ammetterlo Quindi supponiamo di avere Una piccola curva Non importa che sia Chiusa o aperta Comunque Che non si riduca a un solo punto Se Se F si annulla Sui punti di gamma Allora F si annulla Su tutto A Cioè se troviamo che una funzione si annulla su un insieme Per esempio su un segmento, su una curva, su un arco di circonferenza Per quanto piccolo Allora necessariamente la funzione si annulla su tutto il dominio E questo perché? La dimostrazione è immediata Perché se ZF contiene punti di gamma Allora non è più un insieme discreto Allora ZF non è discreto Perché i punti di gamma non sono isolati E quindi se contiene punti di gamma non è vuoto Allora per la proposizione precedente ZF dovrà necessariamente essere tutto il dominio A Come possiamo usare questa proposizione? Beh intanto il corollario immediato Se abbiamo due funzioni Se F e G Sono definiti su un dominio A Olomorfe entrambe E gamma È una curva Regolare In A Se F di gamma T Coincide con G E di gamma T Per ogni T Per ogni T del parametro della curva Allora F di Z Coincide con G di Z Per ogni Z che sta in A Basta applicare La proposizione precedente Applica La proposizione precedente A alla differenza Di F Meno G E quindi Ad esempio Vediamo Un'utilità Di questa Propietà Supponiamo di essere Nel piano complesso No anzi Supponiamo di Di conoscere Che una certa funzione Supponiamo di avere Una funzione Definita Su un intervallo Reale Da una serie Di potente Quindi supponiamo che F di T Sia uguale Alla somma Di Ak K T Meno T Zero Alla K Con K Che va da zero Infinito Con Ak Una successione Di numeri reali E T Lo prendiamo Nell'intervallo Di convergenza Di questa serie Sull'asse reale Quindi sarà T Zero Meno il raggio Di convergenza T Zero Più il raggio Di convergenza Quindi abbiamo Un t zero T zero Meno r T zero Più r Ok E abbiamo La nostra funzione Che è definita Su un intervallo Su questo intervallo Centrato in t zero Da una serie Di potenze Quindi è una funzione Sviluppabile In serie di Taylor Se adesso vado A prendere La funzione F Se prendo La funzione G di z Di variabile complessa Definita dalla stessa serie Di potenze Però con la variabile Complessa Questa funzione È definita Nel piano complesso Su un disco Che ha lo stesso Raggio di convergenza Perché i raggi Di convergenza Di questa serie Coincidono I coefficienti Sono gli stessi E quindi La nostra g Coinciderà Con tutta Andrà A convergere Tutto un disco Quindi È Olomorfa Sul disco Di centro T zero E raggio R Contenuto In c Quindi Se adesso abbiamo Una funzione Se conosciamo Una funzione Analitica Reale Sappiamo che Questa si può Prolungare In modo unico A questo disco Cioè Qualsiasi funzione Per via del corollario Che abbiamo fatto prima Qualsiasi Funzione Olomorfa Che prolunga Che prolunga F Nel piano Complesso Cioè F esiste solo Sull'asse reale Deve Necessariamente Coincidere Coincidere Con G Di z Sul disco Su cui è definita G di z Quindi Questo ci dice Che il prolungamento Analitico O olomorfo Di una funzione Reale Quando esiste Se esiste È unico Quando la funzione Reale È definita Una serie di potenze Questo sicuramente Esiste ed è unico Quindi questo ci dà L'unicità Del prolungamento Analitico Ad esempio Andiamo a prendere La funzione F di z Definita Da Coseno Di z Complesso Al quadrato Più Seno Di z Complesso Al quadrato Meno 1 Se andiamo A restringere La funzione F All'asse Reale Quindi Prendiamo F di t Con t Reale Questo mi viene Coseno Di t Al quadrato Più Seno Di t Al quadrato Meno 1 Sappiamo Che per I valori Reali Di seno Di coseno Se inquadro Più cosquadro Mi da 1 Questo è identicamente 0 Per ogni t Quindi vuol dire Che la funzione F Sull'asse reale Sull'asse reale La funzione Si annulla Ma la funzione Nulla Non si può sviluppare In serie di taylor Nulle E quindi Significa che Ammette Un unico Prolungamento Analitico Necessariamente Nullo E Ma Quindi Questo implica Che F di z È nulla Per ogni z Appartenente a c Perché f di z Prolunga Questa funzione Reale A tutto z Questa funzione È Olomorfa E il prolungamento Quindi analitica Il prolungamento Analitico È nullo E quindi Cosa troviamo Troviamo che Il coseno di z Al quadrato Più il seno di z Al quadrato È uguale a 1 Non solo Sull'asse reale Ma per ogni punto Complesso Per dimostrarlo Usando il prolungamento Analitico Abbiamo È stato sufficiente Averlo verificato Sull'asse reale E poi È osservato Che La funzione Era Olomorfa Perché È prodotto E somme Di funzioni Olomorfe